buongiorno a tutti bentornati sul canale oggi è sabato dobbiamo andare a far la spesa ho deciso di portarvi con me così almeno facciamo un video un attimino diverso dal normale giornata giudicate voi un po schifosa adesso niente sistemo giusto due tre cose prendo le borse magari portiamoci una batteria di ricambio per la gopro perché sicuramente ci andrà scaricare il sistema due cose prendo due cose e ci vediamo dopo non vi ho fatto conoscere lui amore mio adesso vado a fare la spesa tu stai qua tranquillo vero lui e mac 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 come il mac donald ma solo mac senza donald vero fai bravo dai ti presento dopo agli altri va bene ciao pestodino ci vediamo dopo ciao fatto tutto di fretta sicuramente avrò dimenticato qualcosa a casa vabbè borse borse prese cellulare preso l'importante avere portafogli anche perché sennò è un po difficile fare la spesa senza soldi ho ordinato dovrebbe arrivare tra un paio di giorni ho ordinato il il media mod quello della gopro quello che vi dicevo l'altra volta vediamo un po dopo lo testiamo non l'ho mai usato dovrebbe ho visto le recensioni appunto dovrebbe essere essere molto buono quindi vediamo se il discorso dell'audio cambia cambia un attimo dovrei passare anche in farmacia dopo a prendere due o tre cose sinceramente volevo far prima sono già le cos'è 11 e un quarto e vabbè alla fine tra una cosa e l'altra ci si mette sempre occasione di tempo e si fa in ritardo vabbè niente andiamo a far sta spesa andiamo in farmacia e niente a dopo ecco qua lo sapevo e ho combinato il danno combinato sono appena adesso arrivato davanti al supermercato però sto già subito tornando indietro perché potevo dimenticarmi la lista della spesa certo che potevo e infatti così è successo niente adesso tornando a casa prendo la lista della spesa e poi dopo torno indietro porca miseria porca e poi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' di acqua dai. Andiamo le due che serve sempre a carta igienica. Quasi dimenticavo i rotoloni per la cucina. La scotta che sono. Sì, vanno bene. Grazie a tutti. Ah, finalmente libero da questa mascherina. Uff, a posto. Spesa fatta. Adesso metto tutto dentro e poi ritorno a casa. Allora... Allora... Ok. Fatto tutto, adesso... Ah no, che a casa. Devo... Quasi mi dimenticavo. Devo andare... Devo fare un salto in farmacia. A prendere due... A prendere due cagate. E poi forse si ritorno a casa. Spero di aver preso tutto, ma... Mi sembra di aver... Ah no, non ho trovato i fiammiferi. Vabbè. Li... Li cercheremo da un'altra parte. Guarda questo, guarda, 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 guarda. Dio, santo, sei proprio scema, sei. Ma... Ti attraversano la strada anche nel parcheggio così proprio. Senza neanche mettere la freccia, senza... Bah, vabbè. Ciao. Vado in farmacia e ci vediamo dopo. Ciao. Anche in farmacia finito. Porca misera, ho fatto una cazzata. Mi sono messo sul giubbotto. Sembrava che facesse freddo. Cioè, in realtà fa freddo, però... Mi sono messo sul giubbotto invernale. Solo che tra far la spesa, tra caricare le bolse e scaricare... Adesso sono sudato marcio. Magari abbassiamo anche i 22 gradi che ci sono nella macchina. No, voi cosa dite? Niente, ho preso tutto anche in farmacia. Più che altro perché dovevo passare perché... Mac si è... Ah, non è che c'è un virus intestinale. Però, poverino, mi sa che con il freddo... Ok, ha preso un po' di disenteria. E niente, allora gli abbiamo preso le... Le pastiglie appunto per la disenteria. Così almeno si dovrebbe riprendere in qualche giorno. In un paio di giorni. Adesso vado a casa, monto un po' di video. Magari monto subito questo. Adesso vedo un attimino. Magari ve lo faccio già uscire oggi e sabato. Ve lo faccio già uscire magari domanica e domenica. E vediamo un attimo. Dovrebbe venire abbastanza corto come video. Speriamo. Perché io tendo sempre a dilungarmi, a farli diventare 14 minuti, 20 minuti. Poi vedo che ovviamente non lo guardate tutto. Perché per il momento la media di durata della visualizzazione è molto bassa. E quindi cercherò di farli un attimino un po' più ambressa ambressa, come si dice. E niente, dai. Andiamo a casa. Nulla. Cos'è che volevo dire? Boh, non mi ricordo. Magari poi dopo mi viene in mente. E ve lo dirò. Ho voluto fare un video un po' diverso. Dal solito. Anche perché vi dirò. Adesso vediamo un attimino quando è che si può andare via con il van. Quando è che riusciamo ad andare via. E però appunto comincerò a portare anche sul canale un po' di video con il van. Farò il van. Vi farò vedere anche il van. E niente, un van tour, come si dice adesso. E quindi comincerò a portare un po' dei contenuti un po' diversi. E niente. Ci vediamo al prossimo video. E buona giornata anche a voi. Ciao.